3 marzo 1918. La Russia firma il trattato di Brest-Litovsk, con il quale conclude una pace separata con le potenze centrali e mette fine alla sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Già nel dicembre del 1917, il governo bolshevico aveva concordato un armistizio con la Germania. Trotsky, inviato a negoziare la pace, rifiuta inizialmente le condizioni poste dalla Germania, ma con i tedeschi alle porte di San Pietroburgo, Lenin finisce per accettare di restituire l'indipendenza ai territori del Baltico e della Polonia, all'Ucraina e alla Finlandia. Sous-titrage Société Radio-Canada